Allora, appena entro devo mettere il tacca al freddo, io, eh. Ben ritrovati in questa nuova partita di campionato mondiale della Gibilterra contro noi. Allora, se è di mondiale campionato, perché ringrazio solo il pubblico italiano. Infatti, no. Perché mondialmente in Italia si vede il calcio. Fatemi cambiare la formazione, distraeteli. Morelli, guarda che sei veramente bellissimo oggi. Vai! Tira la muser wall, l'ho tirato. Cuo' la mano, Morelli. Bravo, Moro, tocca di fallo, bravo. Grossa, non grossa, bastardi. Oh, puntalo, puntagli le spalle la faccia. Pennali. Eravamo in secco. Ma che piaccia torri di Merkel che ho. Esprit non sta facendo niente, guarda. Ha parlato. Tirami. Il dito. Cuo' di tiro, cuo' di tiro, cuo' di tiro. Ma mi ha fatto una spia, scusami. Chi di tiro, chi? Fermateli. Io sto cercando di correre, ma non riesco a correre, ma non riesco. Com'è possibile? Non riesce a correre, non riesce a fare le azioni base, quello lì. Non funziona un cazzo. Ma non ho fatto, ahia. Ho avuto un cazzo, mi ho tirato, scuso. Fa pasta dopo, lo sai. E come passano in mezzo. Pa, va scherzo, culo. Ten. E chi? Partare di puben. Ma allora dai. Capito, ma io l'ho passata giusta. Marco Mandzukic. Ma... Ma posso... Ma io ti giuro sto passando normalissimo. Ma stai zitto. Che cappella. Non sto facendo niente di diverso... Avevo i difensori di carta peste. Cioè. Oh, io sono... Come andava? Chi è? Brava, va bene. Che male, Newt. Non è vero. Ma come? Ma Newt hai spaccato. Ma a me sembrava palla piena, comunque. Ma infatti era palla. Oh, comunque FIFA è una merda, eh. Fa questa spalla. Porca puttana, allora. Fa, fa. Ma deficiente. Non farle cosa... Sono scivolato, non l'ho fatto apposto. Eh, sono scivolato, non l'ho fatto apposto. Scusa, sei scivolato a piedi uniti? Contro un altro giocatore? Oh, sono scivolato. Sculturato. Eh, va bene. Ma il portiere c'aveva mai di pasta roba? Il portiere di fuck. Sono degli impediti del cazzo quando resisteremo i video. Seguideci in live che ne abbiamo detto meglio. Siamo emozionati. Forse c'è un motivo perché andiamo meglio in live. Però non lo voglio dire. Espre, ce lo puoi spiegare tu? Eeeh, che dolore. Sono sopra le orecchie, però. Eh, chissà perché. Forse per quello, eh, non so. Giulio Delelli. Giallo, eh. Oh, Marco. Cos'era? Era The Kidding. Cos'era quel passo di danza? No, abbiamo fatto dieci tiri, noi uno. Però... Non credo che sia quello lì, Marco. Secondo me, secondo me è quello di Marco. Non credo, eh. Che intangentore. Non è fallato. No. Non è fallato. Morelli, impegni. Ma che fai? Cos'è? Sto tirato, tirato. Orca miseria, l'hai presa. Dietro, dietro. E' mezz'ora per... Ma adesso è un imbecile. E' una palla comunque. Comunque è una palla. Sei già ammonito, Espre, dove è vero? E' stato moreto, Mauro. Eh, lo so, ma per prima non so com'è possibile che ti abbia salvato così tanto. Venga, adesso... Mi sono fatto sto legando, non l'ho colpito. Ma meglio, no, dai, ma... Portiere è veramente di liquirizia. Guarda, è veramente... Ha fatto di liquirizia il portiere. Dai, questo è bello. Pimpong. No, ma come l'ha prescusa? Ha allungato le braccia, non vanno. Ha allungato... Era di gomma. Capisce? Oh, mamma. Sono legando, eh, incredibile. Probabile già lì d'arrivo per questo terreno. Non c'era la palla. Mi ha portato i cucini. Ho capito. Oh, io ne faccio uno, mi dà il giallo. Espre, ha ucciso tre persone. E' ancora un prezzetto. 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 Cosa del genere. Io mi faccio spellere, eh, all'ottantacinquesimo. Ma siete di pazzi? Adesso lo ammazzo, lo ammazzo dalla famiglia. Tutti quanti! Cazzo la famiglia vince! Perché sono inciampato! Oh, oh, oh! Orelli! Eh, sono inciampato. Non ci sono dubbi qui. Non è l'aria! Non è l'aria, sono scivolato! Non è l'aria! Putala via! Ditelo che siete strani! Ma che succede? Eh, sono stato io! Eh sì! Vabbè, tanto un rigore che ci cambia, voglio dire. Tanto la paro, ragazzi. Intervento! Portiere, portiere, portiere! Puffa me! Sei parato, Marco! Ti hai faccionato di rigore! Ha delle palle! Bucateli! Voglio facciarmi il prezzone! A me facciare uno, Marco! A me facciare... Pantelleria! Passa da loro! Passa da loro! Voglio passare il... Francesco Totti! Mamma mia, Marco! Che impressione che mi ha fatto! Passa da loro! Passa da loro! Passa da loro! Bello! Pipì! Dai! Ma che ti è stata? Mi si è messo dentro... Con la testa nel culo, quello! Non sono neanche stato a chi! Dai, vado a passarne uno! Allora, siamo pronti con questa seconda partita del campionato corrente! Mettiti nel culo i tuoi piedi di merda, eh, adesso! Si aspetta qualcosa di... Prendi! Hai preso la palla! Ho preso la palla! Benvenuti dal stadio! L'hai dato fallo! Calcetto di Bergamo! Certo, ho preso la palla! Gli hai spaccato le gambe! Certo, certo! La palla, la palla! Ti rompo i denti! Ma che fai? Cosa ti hai fatto? L'ha spostato! Ma che fai? 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 Che susseguirsi di azioni bizzarre che c'è stata? Buono! Marco sei un campione! Ma almeno buono! Marco sei un campione! No, ho sbagliato! Un cannone! Ma vuole che undone! Ma buona scanda è stuopo imbedACTzeneggie? Dette se stuop attuanne! Oh che non sei importiere troppo att puta! Questi portiere non è capace di fare niente! O competizioni! porивается! Hai sturdito! No, aiutato i partellos! Ah sono ammuniito io! E allora nivelati alle riprese! BASTARDI! TIN TAC! Ma qui abbiamo un culo in erba! BASTARIA! Questo qui è il Marco Madia della loro squadra! Veramente! L'uomo palo! Marco Madia! Marco! 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 E' che l'ha preso comunque! Questo putere è un palo! Non è un putere, è un palo! Ma non riesco neanche a difendere, basta! Palla dura! Aaaaaaah! Destissima! No! A partito quello! Quella fa col di uomo! E' svenuto! Ma non è un palo! C'è un palo da solo! Scusa! Ma ciao! Pure così si fa munire! Scusa! Ma come non l'hai fatto apposta? Ma come non l'hai fatto apposta? Morelli! Scusa! Scusa! Arriviamo! Aspettaci! Bello! Era un cucchiaio eh! Era veramente un cucchiaio quello dell'insalottone! Ehi! Marco un campione! Olli e Olli e... Ma che fare? Non lo so, era in mezzo! Olli e Olli! Astardo! Giocchietto di galle! Esprit! 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 E' vero! Ah! Ah! Ahia! Ma ha buttato un caglio quello! E' le balle! Eh sì certo! Va bene! Non è possibile! Non è possibile! Dai! Ha fatto un quintetto di cazzo quello lì! Pim! Mamma mia che piede di legno sto bordo! Guarda! E' veramente... A parte che è Totò Cotugno! Ma cosa? Abbiamo vinto! Abbiamo vinto! Abbiamo vinto! Abbiamo vinto! Abbiamo vinto! Non erano sufficienti! Ottimo! Merda! Allora! Devo ammettere che siamo stati bravi eh! Ce la siamo meritata! Ce la siamo meritata! Complimentiamoci da solo! Olli ha detto mattete qualcuno! Prendiamoci la mano! Bravi tutti! Sì sì! Abbiamo vinto! Siamo dei campioni! Ottimo! Fortissimi! Al prossimo video! Ciao! Ciao! Io non ho capito! Ciao!